non mimo eccoci buongiorno buongiorno se carico oggi sorpresora per andreone quindi seguite le storie perché siamo partiti presto però sei in po sei in po se carico vai 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 vi terremo aggiornati vero sì e non dormimo no e vengo a se mondi siamo a castello a città di castello sono la pesca scrive loro la mucca se dice mocca come fa la mocca a castello giocato con lupi stop che abbiamo fatto la pipì come si lavava le mani grande andreone vai asciuga asciuga allora abbiamo preso un orso come lo chiamiamo come come chiamiamo l'orso tazzo vai vai mettere un macchina mettere un macchino ma dove stiamo andare con l'orso con tutte queste cose sai o no no sei carico andiamo a pranzo da capito altro p stop fresco qua eh guardate che nebbia freddo dove stiamo? freddo? dove stiamo? Milano vicino 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 andiamo a fare la pipina tra volte come fa il sonino? chi? 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 chi è? tu conosci sto ragazzo? si chi è? andreone questo chi è? chi è? Marco fangini sei contento? adesso si magna eh? un batto da legare eccoci qua bea bea hai visto chi ti ho portato andreone c'è carico numero uno numero uno saluta ho portato un po' di umbria eh? umbrish umbrish vai pulisci sto tartufo vai 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 ma che odore che odore c'è eh? buono di che? senti un po' no tu? è buono come? buono McCarthy costi un po' u results sono contento o no? si offerto troppo è poco toro lopo orto Scusate eh ora di pranzo altra x7 che soffre spesa come? chi aveva fame? io il istru匠 quello ti è수를 fare a giocare partire io? quando tu ho giocato? con le pistolet è bravo con le pistole alle si vai vai grattugia il bianco vai come sei grattugia vai 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 no è di là bravo è sbagliato mamma mia come grattugi ci vede anche un mio grandissimo amico il maiale cane vieni qua eccolo sei carico? quanto? mille boh vai si è per me ha cucinato bene Marco si Bea come so fai complimenti a Marco Marco bravo buoni come si mangiano? ho mai cittadino lì che non bolliva l'acqua come si mangia il tartufo? come si mangia il tartufo? mmmm sta imparare il riso? si si com'è? com'è Lodo? questo era l'ultimo condimento che mancava come di che sa? le carne e poi? di hamburger e dopo? no vabbè no vabbè sta pieno sta pieno sta pieno mamma mia sta pieno sta pieno mamma mia sta pieno sta pieno ogni volta chiede il numero si ecco chi lo volevi il numero? di Marco Fantini gli hai dato? certo video call all'1 di notte faccio lo squido Marco andrà qui andrà le galle sei contento? tu c'è il numero di Marco Fantini adesso eh comunque ci possono separare i chilometri e tutto quanto ma l'amicizia non scompare non scompare mai ricordatevelo sempre ragazzi vero? grande Marcone numero 1 lui eh ecco lui 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 io sto facendo la benzina che ha scritto? VLF guarda 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 che lavoro io veramente no parole e con il pigiama già pisciato si conclude la giornata ha fatto una giornata piena ma bellissima bellissima anche se è stata una sfacchinata però per Andreone questo e altro per i miei amici questo e altro se uno una cosa la vuole fa non ci sono scuse non ci sono cose che possano fermarti quindi l'importante è volerlo dentro come in tutte le cose Marco e Bea fantastici come sempre una famiglia che adoro un'amicizia che va avanti da parecchi anni e niente tutto bello bellissimo e io vi saluto vi do la buonanotte vi lascio con questo video qua giornata conclusa con il mio amico stavo bene? si conto? bello sei bello lo sai che sei bello? buonanotte 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 ah l'ultima cosa prima di andare a dormire mi avete scritto in mille hai rigato la macchina ho preso una raga non è rigata è sporca svegliamoci è un pochino sporca buonanotte mi dispiace sporca e basta